L'Istituto Comprensivo da Feltre e Zingarelli partecipa alla corsa contro la fame, sport e solidarietà per eliminare la fame nel mondo. Il progetto lega in modo unico e innovativo lo sport con la didattica e la solidarietà e ha l'obiettivo di responsabilizzare i piccoli studenti e i grandi andando ad arricchire le competenze civiche. Il percorso prevede una prima fase di sensibilizzazione in aula, poi una mobilitazione giovanile e infine attività sportiva all'aperto. Oltre 1200 scuole di ogni ordine e grado insieme per le comunità più povere del mondo colpite dalla fame e dalla malnutrizione infantile. L'iniziativa, promossa ogni anno all'interno delle scuole italiane da Azione contro la fame e patrocinata da Alconi, rappresenta il progetto didattico, sportivo e solidario più grande al mondo. A livello nazionale sono oltre 1200 le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado che insieme a 900 docenti coordinatori hanno scelto di aderire a un evento di sensibilizzazione e di sport che dalla sua nascita ha coinvolto in tutto il mondo più di 7 milioni di studenti di oltre 20 mila scuole. Un vero e proprio movimento di studenti podisti in Italia quest'anno sono 120 mila gli studenti di oltre 450 istituti comprensivi che nelle prossime settimane daranno vita ad una grande cosa solidale in 82 città italiane.